Una settimana la prima campanella alle scuole vogliono farsi trovare pronte. Coronavirus frenata nei contagi, ma dopo una domenica di tamponi dimezzati. Il rischio covid annulla l'edizione 2020 di Candela Candelara. La vis pareggia con Lascoli e ingaggia il difensore Brignani. Una buona serata a tutti i telespettatori di Rossini TV canale 633 del Digitale Terrestre. Ben ritrovati a Rossini News, il nostro telegiornale della sera in cui vi diamo informazioni e notizie su tutto quello che riguarda la provincia di Pesaro e Urbino in questo lunedì 7 settembre. Apriamo il nostro telegiornale parlando di scuola e in particolare perché questo è l'ultimo lunedì prima del ritorno tra i banchi. Infatti il 14 settembre risuonerà la campanella per i tanti studenti pesaresi che rientreranno in delle scuole molto cambiate rispetto a quelle che hanno lasciato tra febbraio e marzo prima del lockdown. Il sindaco Matteo Ricci e l'assessore Giuliana Ceccarelli ci spiegano come Pesaro si farà trovare pronta all'appuntamento. Pesaro è pronta per l'inizio della scuola di ogni ordine grado. Questa è la notizia più importante. In questi giorni tante famiglie sono in apprensione per l'inizio della scuola. È il tema fondamentale per questo momento. È fondamentale che i ragazzi tornino a scuola perché la scuola è istruzione ma anche socialità è crescita e quindi abbiamo bisogno di far tornare i ragazzi a scuola in massima sicurezza. Stiamo facendo più di 500 mila euro di lavori di manutenzione per cercare di allargare aule laddove è necessario, cercare gli spazi per il distanziamento. Quindi ringrazio Pascucci e tutto lo staff che sta lavorando su questo. E al tempo stesso inaugureremo una nuova scuola che è la scuola di Via La Marmora, la scuola media a Pantano. È una scuola al top dell'efficientamento energetico, dell'efficienza sismica. E quindi siamo molto contenti perché è una realizzazione davvero importante. Con i fondi del GSE siamo stati tra le primissime città ad ottenere queste risorse nazionali. Quindi ci stiamo attrezzando al meglio, compreso i trasporti. Ovviamente bisogna che tutte le famiglie rispettino le norme, lavare le mani, misurare la febbre, far indossare la mascherina fino al banco ai ragazzi. Queste sono le indicazioni che vengono dall'Istituto Superiore di Sanità e dal comitato scolastico. Quindi insomma grande prudenza perché avremo davanti a noi mesi nei quali dovremo convivere con il virus, ma non vogliamo di nuovo richiudere tutto. Quindi più saremo prudenti, più rispetteremo le regole, più ci vivremo alla scuola e meno rischi avremo di eventuali chiusure. Non possiamo permetterci le altre chiusure, dobbiamo assolutamente essere prudenti perché fin quando non ci sarà il vaccino dovremo convivere con questo nemico invisibile che ancora purtroppo è tra noi e quindi dobbiamo assolutamente tenere la guardia molto alta, al tempo stesso però riniziare la scuola nella massima sicurezza possibile. Ma come voi sapete il comune si interessa prevalentemente della scuola di primo grado, quindi dall'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Il mio assessorato, l'assessorato alla crescita, insieme all'assessorato all'operatività dell'assessore Belloni ha fatto un lavoro certosino, devo dire, nel senso che abbiamo incominciato ad incontrare i dirigenti scolastici già dai primi giorni di luglio e sentire quali erano le loro necessità. Poi c'è stato ovviamente tutta una serie di incontri nei diversi plessi, proprio a seguito insomma delle richieste che loro avevano avanzato e poi si è proceduto con un esamine di tutte le spese che potevamo sostenere con i 520 mila euro che ci ha dato il Ministero dell'Istruzione. I lavori sono ovviamente a buonissimo punto, nel senso che quello che le scuole avevano chiesto prevalentemente è stato eseguito, devono terminare quasi tutti entro il 14 per quel che riguarda la sistemazione delle aule. Avrà i tempi un po' più lunghi, invece, tutta la sistemazione degli spazi dedicati alla mensa perché la mensa inizierà più tardi. Abbiamo avuto, a proposito della mensa, quasi 400 domande in meno, quindi mentre l'anno scorso avevamo più di 4.000 pasti, quest'anno ne abbiamo 3.700 e qualcosa. Però questo credo che sia abbastanza logico, abbastanza normale, nel senso che le famiglie prima vogliono vedere qual è l'inizio un po' di questa scuola, come ci siamo organizzati, eccetera. Sul trasporto la stessa cosa, nel senso che abbiamo i pulmini, il numero adatto e giusto per poter trasportare tutti i 500 e oltre bambini, per cui credo che siamo veramente ad un buonissimo punto. Oltre alle aule, a doversi fare trovare pronto è anche il trasporto scolastico che in queste settimane ha dovuto divincolarsi tra le tante difficoltà preparatorie per garantire il distanziamento sociale sugli autobus. Facciamo il punto della situazione ad una settimana dal via alle elezioni con l'assessore Aidi Morotti. In questo momento abbiamo dei numeri che sono gli stessi dell'anno scorso, per cui non abbiamo dei dati abbastanza freschi e nuovi, perché abbiamo riscontrato da parte delle famiglie forse un po' di diffidenza nel fare gli abbonamenti, magari anche perché qualcuno giustamente vuole vedere un po' come sarà organizzato e anche un po' forse come evolverà questo virus. Abbiamo contattato le scuole, abbiamo fatto diversi incontri per cercare di capire quali erano le esigenze e per adesso abbiamo comunque confermato quello che era l'anno scorso. Con il carico all'80% riusciamo, attivando alcuni mezzi di supporto, quindi le famose linee BIS, riusciamo a portare tutti gli studenti a scuola negli orari previsti. Ci saranno delle novità, ad esempio sappiamo che non sarà possibile avere in ogni bus un controllore, quindi anche per l'autista ci sarà un surplus di competenze? Gli autisti non devono essere gravati di competenze o di responsabilità ulteriori a quelle che già hanno come guidatori e da contratto, però è una loro facoltà poter vietare l'ingresso al bus a persone che non hanno la mascherina ed è una sua facoltà quella di poter segnalare le autorità competenti nel caso in cui per magari un paio di mattine consecutive ci fossero dei soggetti che creano dei problemi o che si comportano in maniera scorretta. Ed ora ci occupiamo di alcuni incidenti stradali avvenuti oggi a Pesaro perché poco prima delle 14 in zona muraglia è dovuta intervenire l'eleambulanza per soccorrere un motociclista pesarese che si è scontrato con un'automobile. La moto stava percorrendo via Lombroso in direzione Fano-Pesaro quando un'auto che svoltava a sinistra in via Barsanti è andata appunto a tamponare il conducente della moto. Motociclista che è stato trasportato dunque nelle ambulanze ad Ancona. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Pesaro. Polizia che alle 7.40 era invece intervenuta in un tamponamento senza feriti alla rotatoria fra via Solferino e l'Interquartieri. Un sinistro che ha parzialmente congestionato il traffico in orario di punta per l'inizio delle attività lavorative. Ed ora il nostro consueto aggiornamento sui casi di coronavirus nel territorio. Casi che registrano una frenata nelle Marche dopo la preoccupante escalation dei giorni scorsi. Questa mattina il Gores ha rilevato sei casi positivi nelle Marche, nessuno dei quali nella provincia di Pesaro e Urbino. Numeri che però vanno soppesati dal fatto che come ogni domenica si sono eseguiti meno tamponi. 636 quelli processati, la metà di quelli testati nel giorno prima quando erano stati rilevati 20 casi positivi nelle Marche, di cui 11 in provincia. Sabato mattina invece ne erano stati rilevati ben 32 nelle Marche, di cui 16 in provincia. Ora si spera che la frenata non sia determinata solo dal carico ridotto di tamponi, ma anche da un periodo di rientro dalle vacanze che va verso la sua fase conclusiva. Coronavirus che però continua ad annullare eventi, tant'è che per la prima volta dopo 16 anni non ci sarà candele a candelara, come ci spiega l'ideatore e organizzatore della rassegna Pier Giorgio Pietrelli. La cosa più importante è che le agenzie di viaggio e i tour operator da tempo ci stanno chiedendo cosa avete deciso, avete le date, fate, non fate e allora dovevamo in qualche modo incominciare a dare una risposta e poi unito a questo discorso dell'esigenza delle agenzie che chiedono per i loro programmi per procedere come organizzare i gruppi. Abbiamo anche il discorso degli ingressi molto limitati e soprattutto anche la salloguardia della salute anche dei residenti di Candelara, perché chiaramente avendo un 60-70% di gente che viene da fuori, il rischio e il pericolo c'è per tutti, cosa che ci dispiace tantissimo perché dopo 16 anni e dopo il successo che abbiamo avuto, fermare una cosa che funziona dispiace tantissimo, però chiaramente prima c'è la salute e poi il resto, quindi bisogna valutare un po' tutto e sicuramente il procedere così anche con un po' di anticipo forse, però questo non per cercare anche di fermare altre iniziative, perché sicuramente il Natale che non ti aspetti in qualche modo andrà avanti, però noi avendo una manifestazione di livello nazionale abbiamo bisogno di essere molto chiari fin dall'inizio. E fra le tante privazioni del lockdown c'è stata anche quella estremamente pesante di non poter celebrare i funerali dei propri cari. Il 9 marzo ad esempio in piena pandemia era venuto a mancare Don Graziano Ceccolini che per 54 anni era stato alla guida della comunità parrocchiale di Cattabrighe e Vismara, una parrocchia che questo sabato si è riunita per commemorare l'amato sacerdote. Anche Don Graziano come tanti fratelli e sorelle è tornato alla casa del padre durante il coronavirus. Sabato scorso abbiamo vissuto insieme un bel momento perché ci siamo stretti intorno all'altare del Signore per poter dire grazie per il nostro fratello, sacerdote, parroco Don Graziano. Posso dire che venendo in questa comunità parrocchiale circa tre anni fa e ho trovato una bellissima eredità. Don Graziano veramente ha costruito tante relazioni, una bella comunità viva dove i giovani, gli anziani, i bambini camminano insieme sulle orme seguendo l'insegnamento di Gesù. Di questo devo dire veramente grazie. Certamente Don Graziano manca tante persone. È stato un sacerdote molto buono, molto semplice. Recentemente andando a benedire le case mi chiedevano tutti la caramella di panna perché lui era solito lasciare questo segno e questo ecco ci fa capire un animo molto semplice che però ha saputo creare intorno a sé una grande accoglienza. Lui era accogliente e ci ha insegnato è proprio quella che è la via dell'accoglienza, quella che Gesù stesso ha testimoniato con la sua vita e allora per questo vogliamo veramente ringraziare il Signore perché ciò che ha seminato possa continuare sempre a portare frutto nella nostra comunità parrocchiale di Sant'Erenzio, di Santa Marina e anche nella nostra città di Pesaro. Ho conosciuto Don Graziano sin dal lontano 1962 quando egli arrivò qui in parrocchia Cattabrighe. Oggi Don Graziano ci manca molto, ci manca la sua presenza, ci manca il suo calore, ci manca il suo affetto. Vi racconto un episodio. Eravamo a un campo scuola a 150 km da Pesaro. Don Graziano ci venne a trovare insieme a Don Valerio. A un certo punto il pomeriggio arriva una telefonata, una telefonata che diceva che era morta una persona a Cattabrighe, un signor anziano, il padre di una signora che conoscevamo. E questa signora chiedeva a Don Graziano di tornare a casa per dire il rosario. Don Graziano non ci ha pensato un attimo, ha lasciato noi cento persone lassù e prese e venuto via dicendo io devo andare in parrocchia, qui tanto ci siete voi. E così è stato. È un po' la sintesi di quello che è stato il suo cammino pastorale qua, che si può anche ulteriormente sintetizzare con uno slogan, I care, mi sta a cuore. Cioè tutto gli stava a cuore. Ed ora parliamo di un importante provvedimento per i commercianti falcidiati dal lockdown. A Tavuglia infatti arriva uno sconto sulla Tari per i tre mesi di chiusura di marzo, aprile e maggio scorso. Il sindaco Francesca Paolucci ha infatti annunciato oggi che sarà il comune di Tavuglia a farsi carico della tassa sui rifiuti nei tre mesi di chiusura forzata per le attività. Ricordiamo che oltre alla Tari il comune di Tavuglia aveva già azzerato la TOSAP, ovvero la tassa per occupazione di spazi pubblici per tutto il 2020. Ed ora la politica perché ieri la leader nazionale di Fratelli d'Italia ha fatto tappa nella provincia di Pesaro e Urbino a sostegno del candidato a governatore del centrodestra Francesco Acquaroli per la regione Marche. La Meloni è stata a Pesaro ma anche a Mercatello sul Metauro invocando un giro di vite all'incompiuta della Guinza e della Fano Grosseto. Questo cantiere è cominciato nel 1990, 30 anni fa e oggi è ancora chiuso perché Tancentopoli e poi i ricorsi e poi le lungaggini burocratiche e nelle more di tutto questo a un certo punto è cambiata la normativa di riferimento e questa galleria quasi finita non è più a norma. E poi mancano 20 chilometri per collegarlo di qui alla superstrada, di là nell'Umbria siamo messi ancora peggio. Insomma quest'opera fondamentale nonostante si stimano quasi 300 milioni di euro spesi per costruirla, per realizzarla, è ancora ferma. Purtroppo le infrastrutture necessarie di aprire il mondo dei due mari sono ferme da 30 anni e insieme ad essi sono ferme anche le capacità e le opportunità per territori che sono in desertificazioni, territori da dove i giovani scappano e lo spopolamento sta condizionando la sopravvivenza. Io credo che sia giunto il momento di dare risposte concrete e assolutamente prioritario per noi riportare le infrastrutture al centro dell'azione del governo, della regione Marche e del paese italiano. Non solo infrastrutture ma anche sanità, una criticità che Giorgia Meloni e Francesco Acquaroli hanno affrontato ieri analizzando il caso dell'ospedale di Fossombrone. Siamo di fronte a quello che rimane dell'ospedale di Fossombrone, uno dei tanti ospedali depotenziati da una sinistra che in questo territorio ha chiuso almeno 13 ospedali, seguendo le indicazioni del governo nazionale, tagliando risorse e di fatto creando pazienti, cittadini di serie A e cittadini di serie B. In questo territorio dell'entroterra se ti senti male di notte, se accade qualcosa devi fare chilometri e chilometri perché l'unico ospedale vero che esiste è quello di Pesaro. Noi vogliamo ripristinare e riportare i servizi sui territori perché crediamo sia fondamentale per tenere le comunità unite e forti, per evitare lo spopolamento e per garantire i servizi essenziali di cui queste comunità hanno assolutamente bisogno. La sanità deve essere spalmata e deve essere in grado di sostenere tutto il territorio regionale e non può essere un privilegio di qualcuno. Noi non vogliamo più riforme ideologiche ma vogliamo riforme che siano calate sulla realtà e nella quotidianità e sappiano rispondere alla quotidianità dei nostri concittadini. Ed ora allo spazio alle vostre segnalazioni, ma questa volta non ci occupiamo di disagi o di servizi, bensì dei video che diversi telespettatori ci hanno inviato per mostrarci come si presentava il mare di Pesaro ieri mattina. Acque cristalline pulitissime e davvero un bel vedere per i peseresi e i turisti che si sono goduti questo primo weekend di settembre e che sperano in un allungamento della stagione balneare. Ricordiamo che Pesaro è bandiera blu per il sedicesimo anno consecutivo, un riconoscimento che si basa non solo sulla qualità delle acque ma anche sulla gestione ambientale, i servizi e la sicurezza delle spiagge. Ed ora ci spostiamo a Cartoceto dove l'amministrazione del sindaco Enrico Rossi si è vista riconoscere 87.500 euro per rendere esecutivi tre progetti di messa in sicurezza, consolidamento e restauro conservativo della cinta muraria crollata con l'alluvione del 2012 e 2013. Un finanziamento che corona la linea d'azione dell'amministrazione che dal 2014 ha posto le mura urbiche al centro dell'obiettivo di mandato del sindaco Rossi. Ed ora vi mostriamo le immagini di due eventi che hanno riscosso applausi in questo weekend. Cominciamo da Monbaroccio dove sabato il borgo si è avvolto nella magica atmosfera creata dal duo artistico Yoro Like Sun a Palazzo del Monte, un evento per il quale il sindaco Emanuele Petrucci ha voluto pubblicamente ringraziare i volontari per il coinvolgimento dei giovani in questo delicato periodo di covid. Grande successo anche all'arena BCC di Fano questo weekend per il concerto A Star Is Born, la nascita delle stelle della musica. Il pubblico ha potuto applaudire le musiche di Lady Gaga, Michael Jackson, Fabrizio Di Andrè e Mozart reinterpretate dall'orchestra sinfonica Rossini con gli arraggiamenti del maestro Roberto Molinelli, la voce di Clarissa Vicky e i testi di Claudio Salvi. E proprio per quel che riguarda spettacoli, cinema, teatri, circhi e arene, ricordiamo che nel weekend appena trascorso il presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli, ha firmato il decreto che modifica e integra le linee guida inerenti le misure di distanziamento sociale, aprendo i teatri non più a un terzo della capienza ma circa la metà. Un'importante novità invocata dal consorzio Marche Spettacolo che agevolerà il lavoro di migliaia di operatori e i tanti spettatori che cercano un graduale ritorno alla fruizione di cultura. Parliamo di sport e di quello sport che supera la disabilità. Sabato scorso si è infatti tenuto il Manzoff Day, una giornata dedicata a Marco Manzini, atleta di taekwondo dell'Aktiva Combat, conosciutissimo per essere uscito dal coma nel 2012 grazie alla voce del suo idolo Dino Zoff. Manzini è stato medaglia di bronzo agli europei di paratekwondo e sabato è diventato pure sindaco per un giorno con il primo cittadino Matteo Ricci che l'ha bardato di fascia tricolore per festeggiare la conquista del secondo Dan in un evento organizzato da Terenzi Concept presso il locale dai gemelli di Baia Flaminia. Parliamo ora di calcio perché la Vispesero questa domenica ha pareggiato in amichevole 1 a 1 con Lascoli in un contesto molto particolare perché è stata la prima partita aperta al pubblico dopo le tante restrizioni della pandemia. Vediamo il servizio. È finita 1 a 1 sul campo ma questa volta contava molto di più il risultato fuori dal campo. Con Vispesero Ascoli lo stadio Benelli di Pesero è infatti tornato ad aprire le porte al pubblico e ai tifosi biancorossi dopo quasi sette mesi di astinenza. Tanti ne sono passati da quelle Vis-Vicenza 1 a 1 del 9 febbraio che ha preceduto l'impennata di contagi, il lockdown e la conseguente sospensione dei campionati di calcio. Come col Vicenza è finita 1 a 1. Come col Vicenza un'ottima figura della Vis al cospetto di un Ascoli di categoria superiore ma ancora in ritardo nel suo assemblaggio verso la Serie B. In gol è andata soprattutto la prova di maturità del pubblico pesarese che si è attenuto rigorosamente alle regole obbligate dell'apertura degli stadi post-covid. Mascherine obbligatorie dall'accesso ad ogni transito all'interno dello stadio. Mascherine che potevano essere tolte solo dopo essersi seduti al proprio seggiolino. Termoscanner a misurare le temperature all'entrata allo stadio, botteghini dei biglietti chiusi al pari dei bar e soprattutto distanziamento sociale all'interno dello stadio. Per ogni seggiolino occupato ce n'erano infatti un paio non occupabili. Uno stadio diverso e diversissimo nella Curva Prato dove gli Ultras non hanno esposto striscioni e vessilli. Bisognerà pazientare perché il governo Conte richiuderà gli stadi fino al 30 settembre mantenendo la guardia ancora altissima sull'andamento dei contagi. Vissascoli è stata dunque una parentesi ma intanto è un esame superato sia per il comportamento del pubblico sia per quello della squadra. Quella sì che ha strappato applausi ad una tifoseria costretta ad un atteggiamento più teatrale delle solite abitudini. La vis ha in larga parte dominato Lascoli e meritatamente passata in vantaggio con un colpo di testa di Leli e ha legittimato a lungo il risultato prima del pari dell'Ascoli segnato dal giovanissimo Franzolini a 5 minuti dal termine. Soddisfatto l'allenatore della vispesero Giuseppe Galderisi. Sono contento del lavoro che è stato fatto fino adesso e sono contento di come questo gruppo sta diventando un gruppo vero e ha una gran voglia di diventare una squadra. Prima la squadra, questo è proprio quello che noi ci diciamo, tutti dovevano la squadra, tutti a dedicarsi per quello. E c'è anche un'ultima ora che riguarda l'Avis Pesaro che ha ingaggiato il difensore Fabrizio Brignani classe 1998 in prestito dal Bologna. Difensore alto 1,91 m, Brignani nella scorsa stagione è stato un titolare del Cesena disputando 22 presenze e segnando un gol proprio contro l'Avis Pesaro in una partita di Coppa Italia. Per lui in carriera anche un'annata da protagonista nel Pisa con 26 presenze totali dove ha vinto i playoff di Serie C nella stagione 2018-19. Un colpo importante per la squadra di Galderisi che si rinforza ulteriormente in difesa completando il pacchetto arretrato. Ancora sport e parliamo di bicicletta perché in questo weekend è andata in scena la ciclopedalata con il nutrizionista e dietista Jader Fabri. 85 chilometri su due ruote organizzati da Fisioradis Center che Rossini TV vi racconterà in uno speciale che andrà in onda giovedì alle 21.15. Nel frattempo vi diamo un assaggio di questa esperienza attraverso l'intervista a Maurizio Radi ai microfoni di Paolo Pagnini. Quest'anno abbiamo cambiato location ma è stata una scelta dovuta siccome non c'è stato diciamo l'edizione di Pesaro in fitness per tutti i motivi che ormai conosciamo per questo 2020 strano. Abbiamo deciso di venire qua perché era già stato un punto di partenza tra una delle prime pedalate con Jader tanti anni fa e quindi una casa privata dove abbiamo potuto riospitare un gruppo di amici che ci segue. L'unica cosa diversa dagli altri anni che di solito facevamo anche la sera prima una conferenza dove parlavamo sempre di alimentazione o di servizi per i ciclisti. Quest'anno purtroppo non si è potuta fare. Speriamo di dare appuntamento ai nostri appassionati che ormai ci seguono da tanti anni al 2021 che sia un 2021 più tranquillo e magari con nuovi obiettivi e nuove prospettive. Comunque nonostante tutto anche quest'anno abbiamo qua circa 120 persone che pedalano con noi quindi ben riuscita anche questa giornata e speriamo poi di poter un po' più avanti ricreare i nostri eventi che di solito sono eventi quotidiani dove vogliamo portare informazione ai nostri pazienti e non solo. Abbiamo già in mente qualcosa per un forse a fine settembre, primi di ottobre. Dobbiamo solo un attimino guardare come si evolve tutto ma se tutto andrà bene noi ci siamo, ci siamo sempre stati e ci saremo per potervi dare tutte le nostre informazioni, tutto quello che facciamo e portarvi sempre notizie che vi potrebbero servire sia per andare in bicicletta ma anche per la vita quotidiana. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, ora vi ricordiamo la prima serata di Rossini TV perché alle 21.15 andrà in onda una puntata da non perdere, l'ultima puntata di polpo di fulmine cucina in vaso cottura. A seguire alle 21.30 la prima di tre serate che dedicheremo a Soul Portraits ovvero i ritratti dell'anima, i concerti dedicati ai tanti artisti e musicisti purtroppo scomparsi sotto la pandemia, questa sera vi proporremo la serata di giovedì, quella dedicata al concerto per Ragnero Cecchini e Mirko Bertuccioli. È davvero tutto per questa nostra edizione del telegiornale, vi ricordiamo che l'informazione su Rossini TV tornerà puntuale domattina alle 7.20 con la rassegna stampa dei quotidiani locali in diretta Buongiorno Rossini, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata con i programmi di Rossini TV.